Dagli appunti, strati di interventi come gocce di pensieri, strati d'animo sfuggiti al flusso dell'esistenza. Il suo è un carpe diem denso, lento, afferrato nella sua totalità, dove l'effimero diventa fugace eternità. È come guardare in profondità attraverso ciò che è sparso in superficie alla mutevole luce di albi e tramonti.